Proprietà dell'argilla. Da tempo nella cosmetologia vengono utilizzati diversi tipi di argilla. Le sue proprietà benefiche erano conosciute ancora nell'antico Egitto dove la usavano per fare le maschere per il viso, l'avvolgimenti del corpo e per la cura dei capelli. Nel tempo nostro questo rimedio è stato dimenticato. Tuttavia, nella fine del secolo sorso quando la gente si è stancata dalla quantità delle sostanze chimiche è iniziato il ritorno verso i rimedi naturali e l'utilizzo di argilla è diventato di moda di nuovo. Nella natura esiste argilla di colori diversi, verde, celeste, grigia, gialla ed addirittura rosa. Ma non ti sanno che quella basica è di colore bianco. Il suo colore cambia grazie alla presenza di grandi quantità di un tipo specifico di microelementi. Quindi, l'argilla bianca è universale e ha maggiore capacità adsorbente. Il suo utilizzo nella cosmetologia è possibile grazie alle sue proprietà universali naturali, antibatterica, non per me e i microorganismi patogeni a riprodursi sul cuoio capellù, inclusa la micosi che favorisce l'apparizione della forfora, antinfiammatoria, le maschere. D'argilla per capelli rimarginano velocemente le ferite e microfessure, eliminano l'infiammazione pruritua, adsorbente, è un disintossicante. Perfetto, in grado di raccogliere dai capelli i residui dei cosmetici e prodotti per la cura utilizzati prima, ed anche eliminare i tossine dalla cute, idratante, avvolgendo la superficie della cute e di ogni cappello l'argilla ostacola l'evaporazione dell'umidità. astringente, utilizzata regolarmente è in grado di normalizzare il funzionamento delle ghiandole sebacee, diminuendo leggermente la loro attività e riducendo il diametro dei canali sebacei, si ricostituente di te. L'argilla contiene tanti microelementi utili necessari A rinforzare e ricostituire i capelli indeboliti e danneggiati. In più, l'argilla è un pilig morbido perfetto che pulisce delicatamente la superficie del cuoio capelluto dalle cellule morte sfaldate. E il fusto del capello dalle impurità microscopiche. Come utilizzare? I modi dell'utilizzo di argilla per rafforzare la capigliatura sono abbastanza vari. Naturalmente, un modo più tradizionale rimane la maschera per capelli di argilla bianca. Ma non è l'unico. Il rimedio può essere aggiunto nello shampoo, usato per creare una voluminosità in più dell'acconciatura, applicato come un prodotto. Per il peeling oppure con i scopi terapeutici. Regole importanti Non importa in che modo siete intenzionati ad utilizzare l'argilla, prima bisogna conoscere le regole importanti. Da seguire mentre lavorate con questo prodotto, è meglio comprare l'argilla bianca, caolino, in farmacia o in negozi cosmetici specializzati. Perché lì si trova l'argilla pura senza additivi estranei. Viene diluita con acqua di temperatura ambiente fino a 36-40 ose perché nell'acca calda perde le sue proprietà utili, invece nel Acca fredda si coagula in una palla. Dovrebbe essere densa come uno yogurt fat in casa tro liquida sgocciola, invece troppo densa non si distribuisce univocamente sui capelli. Il beneficio sarà maggiore se per diluire il caolino userete la infusi di erbe, de verde o acqua termale. La maschera di argilla appena preparata bisogna applicare subito sulla testa, iniziando dalle radici e dalla cute e stendendola giù per tutta la lunghezza. Bisogna avvolgere la testa in qualcosa di caldo, allora l'effetto dell'utilizzo della polvere di argilla sarà maggiore. Bisogna tenere la maschera fino a due ore, non si può lasciarla per la notte. Dopo aver lavato bene i capelli dall'argilla, si consiglia di applicare uno spray idratante o un fluido leggero senza risciacquo per evitare un forte essiccamento. Nel giorno in cui avete applicato l'argilla si consiglia di evitare le procedure aggressive colorazione permanente, messe in piega calda e addirittura asciugatura con aria calda. Lasciate i capelli riposare e ricostituire lo strato protettivo naturale. Importante! La maschera con argilla viene lavata dai capelli senza lo shampoo. Se la maschera conteneva tanti oli naturali, bisogna prima applicare un po' di balsamo di buona qualità e massaggiare leggermente la cute. A volte, dopo l'utilizzo di argilla sui capelli chiari rimane una sfumatura giallina. Al solito, il problema si risolve dopo il lavaggio slementare della capigliatura con lo shampoo di buona qualità. Tavia, se i capelli fossero danneggiati bisognerà applicare i balsami riflessanti. Invece i capelli, rafforzati, in questo modo si spezzano di meno e diventano più folti. Pilling solo pochi usano l'argilla bianca per fare il peeling ai capelli. Tavia, anche i vostri boccoli hanno bisogno della pulizia profonda ogni tanto. Questo riguarda soprattutto le persone che ricorrono spesso ai prodotti per lo styling e dell'acconciatura. I loro residui sono sempre presenti sui capelli e sul cuoio capelluto. Se non vengono eliminati di tanto in tanto possono provocare l'irritazione, la forfora, il prurito e addirittura causare l'alopecia. L'effet peeling leggero si ottiene semplicemente aggiungendo un po' di argilla nello shampoo abituale. Non bisogna versarla direttamente nel flacone. È meglio versare nella ciotola una quantità dello shampoo necessaria per un solo lavaggio e aggiungerci l'argilla in modo che la consistenza dello shampoo rimanga liquida ma il suo colore diventi decisamente bianco. Quindi applicatelo in modo univoco sui capelli bagnati, fate la schiuma e lavate via per bene. Per un peeling profondo bisogna diluire l'argilla con acqua o infuso di erbe camomilla ciciliana, salvia, calendola, tè verde. Fino ad ottenere la consistenza di uno yogurt. Il peeling viene realizzato sui capelli puliti umidi. Applicatelo sul cuoio capelluto e massaggiate leggermente, dopodiché pettinate i capelli con un pettine rado verso le punte e lasciateli. Colo il peeling per 10-15 minuti. Lavate bene la capigliatura, senza lo shampoo. Lasciatela asciugare in modo naturale ed applicate un prodotto idratante. Maschere Ci sono tante ricette delle maschere d'argilla per capelli. In realtà, conoscendo le proprietà degli ingredienti supplementari con quali viene arricchita la composizione basica di argilla, si può creare da soli una ricetta perfetta per voi. Succo di limone Schiarisce leggermente i capelli Riduce l'untuosità Conferisce La luminosità Kefir e yogurt contengono l'acido lattico che ammorbidisce il cuoio capelluto e perfettamente idrata i capelli. Frutta e va, meglio la spremuta. È una fonte perfetta di vitamine e minerali, componenti irritanti cannella, succo di cipolla e di alio pepe rosso, tromigliorano. La circolazione sanguigna stimolano la crescita dei capelli, oli naturali, consigliati per capelli se, fragili e danneggiati. Creano un film protettivo attorno ogni capello, miele, un prodotto naturale e universale, che contiene più di 200 elementi biologicamente Attivi, adatto a qualsiasi tipo di capelli. Solo a base di elementi menzionati si possono creare centinaia di maschere efficaci, ma esistono anche de verde, caffè, infusi di erbe e quant'altro. Applicazioni Le applicazioni di argilla a casa vengono utilizzati come una parte della cura complessiva dell'alopecia locale o totale. Permettono a migliorare velocemente e significativamente lo stato di salute del cuoio capelluto e stimolare attività dei follicoli. Piliferi Antibatterico Procedure Sanguigno